Arriva a San Terenzo la mostra Anima Ligure. Qual è il suo tema? Il tema dei paesaggi del nostro territorio. Io sono un pittore autodidatta, dipingo da anni, viva la spezia ovviamente. Sono affascinato dalla nostra terra, che è bellissima. Sono paesaggi interiorizzati, riportati sulla tela, con la tavolozza cromatica del momento. Quindi c'è molto del nostro territorio e c'è molto anche di quello che, interiorizzato, viene fuori attraverso la sintesi sublime dei colori. Dove sarà allestita e quando si potrà visitare? La mostra è a San Terenzo, nel centro storico, via Paola Zarini. Si può visitare dal 5 di luglio, venerdì 5 luglio, al venerdì 12 luglio, pomeriggio, tardi, 5 e mezza, 21 e 30, per una settimana. Ringrazio per questa mostra che è sponsorizzata dalla Proloco, dal prefetto della Spezia, dal comune di Lerici e ovviamente da Sala Cargià, nella persona della sua splendida curatrice, Ezia Di Capua. A cosa si ispira nella sua opera? Qual è stato il pittore del passato che l'ha ispirata? Diciamo tutti i pittori del passato, tutti i grandi vedutisti italiani, anche stranieri. Il massimo per me è stato il movimento dei macchiaioli, che nasce come rifiuto ai rigori stilistici dell'Accademia. Quindi era un gruppo di persone che erano motivate a dipingere quello che sentivano, quello che vedevano così. Questi sono stati i miei ispiratori.